Come stai? Fai un sorriso. Ho portato due succhi, te l'ho presa l'albicocca che ti piace tanto, te lo metto qua? Sì. Come stai? Va bene. E come stai invece? Bene. Se dimmi grido. Un po', sì. Sono tranquillo, sto bene, un po' stanco magari. Beh, piano piano ce la fu, eh. Metto tutto a posto, si risolve tutto quando, cioè, normalmente. Mamma mi ha detto che lavora in un ristorante. Dice che è un posto bello dove i camerieri sono tutti vestiti di nero. Ci sono delle recensioni. Lo chef Diego Mancini è uno dei rari casi del panorama romano di sostanza unita a classe e raffinatezza. Wow. Un giorno mi riporti. No. 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 No.